Daveri, abbiamo visto che essendo un allargamento di misure di welfare, diciamo, previdenziale e non, c'è anche un aspetto fiscale, c'è appunto un'ipotesi di spesa. L'ipotesi che viene fatta anche nei documenti che hanno accompagnato il disegno di legge è di una spesa veramente ridotta. Abbiamo visto che si ipotizza che a regime per reversibilità, detrazioni per i coniugi a carico, si arriverà a una cinquantina di milioni l'anno, che nel bilancio dello Stato è il nulla, più o meno, naturalmente. Sono state troppo ottimistiche da avere queste stime, perché abbiamo visto le cifre più disparate proprio dei costi enormi che avrebbe portato questa nuova regolamentazione rispetto a quelle che abbiamo visto di fonte IMSS, regionale dello Stato, eccetera. Sulla Voce.info avevamo ospitato tempo fa un primo tentativo di fare stime di questo tipo e i numeri che erano usciti erano assolutamente confrontabili con quelli citati nel servizio e ripetuti adesso da lei. Quindi effettivamente l'onere economico è un onere assolutamente non solo tollerabile, ma oltretutto, come precisava prima anche l'onorevole della Vedova, c'è poi un aspetto di nuovo welfare che funziona dentro la famiglia, che potrebbe portare anche a una qualche forma di riduzione e di compensazione di quello che prima invece era un onere solo a carico dello Stato. Quindi nel complesso mi sembra che drammatizzare l'aspetto economico contabile di questa misura, che è una misura di civiltà e di libertà, mi sembra assolutamente mancare l'obiettivo. Non ricordo male, tra l'altro, addirittura all'epoca dei Dico non si era nemmeno affrontato il tema, proprio perché prevedeva per quanto piccoli degli oneri per lo Stato, e quindi era una vicenda veramente complicata, è difficile discutere con lucidità anche sui temi che sono quelli più strettamente attuariali. Come si dice da veri, per chiudere questa pagina, il fatto che appunto si prevedano questo trattamento economico per le coppie gay con le unioni civili, mentre appunto la coppia di fatto eterosessuale non le abbia. Risponde a quello che diceva anche della Vedova, c'è già il matrimonio per le coppie etero. Lo chiedeva a me? Sì, lo chiedeva a lei perché appunto alcuni hanno giudicato un po' una stranezza dell'impianto della legge. Insomma, guardandola da fuori è un po' una stranezza, però insomma io continuo a pensare che l'importante sia stato portare in fondo la misura che è stata approvata e poi ci sarà modo probabilmente sia nel dibattito parlamentare, che tra l'altro non è ancora concluso, perché per l'appunto la misura deve passare alla Camera e poi per un eventuale ritorno al Senato per eventuali aggiustamenti. Però sottolineerei l'aspetto di ciò che è stato approvato e di ciò che è stato lasciato fuori. Da veri, ma in questa Europa in cui ci sono paesi che se ne fregano di trattati, rapporti diplomatici, chiudono le frontiere, ma chi se ne importa se uno fa 0,2 o 0,3 di deficit? Cioè, di cosa stiamo parlando in questa particolare fase storica? Ma effettivamente l'algebra degli 0, qualcosa impallidisce rispetto a eventi come la potenziale Brexit, oppure rispetto alla tragedia dei migranti e alle politiche necessarie per porvi, se non un rimedio, almeno un argine dal punto di vista dell'accoglienza. Ecco, quindi queste sono le cose di cui si sta parlando. Però è anche vero, non possiamo dimenticarlo, che l'Europa, cioè non esiste un'unione monetaria, per esempio, in cui non ci sia una qualche forma di convivenza civile dal punto di vista di ognuno degli Stati membri, che non possono pensare che gli altri Stati membri paghino il conto per loro. Quindi questo vale per l'emblema di modello federale, che è quello degli Stati Uniti. Anche chi vuole più Europa deve tenere a mente che, se si va verso più Europa, vorrà dire un'Europa che, nella migliore delle ipotesi, possa assomigliare di più agli Stati Uniti, e gli Stati degli Stati Uniti sono sottoposti a qualche cosa tipo il fiscal compact. Quindi è difficile pensare che, se l'Europa va avanti, possa andare avanti in una direzione che si discosti tanto dalla flessibilità inclusa nell'attuale fiscal compact di oggi. Questo non vuol dire che non si debba trovare spazi per gli investimenti pubblici e fare sicuramente molto di più di quello che è stato fatto finora col piano Juncker, che al momento risulta non registrato. Adesso piano più sostantivo è un avverbio, nel senso che va veramente a rilento, non si vede niente. Veramente piano. Niente no. Quindi questo è il punto, è un po' dove siamo adesso, ed è difficile al momento però immaginare dei passi in avanti sostanziali da questo punto di vista, in attesa di quello che succederà con il referendum. Prima di allora in realtà per l'Italia ci sarà da presentare il DEF ad aprile e da vedere che cosa succede a maggio, quando l'Unione formulerà le sue opinioni su quello che è stato fatto fino a questo momento. E poi stavamo ricordando anche adesso, abbiamo parlato spesso, che insomma il taglio di spesa c'è stato, perché ad esempio la riforma Fornero è stata durissima nei confronti di categorie di italiani numerose. Quindi si può fare, semplicemente sui pensionandi è più facile intervenire che, che ne so, su certe altre lobby, sulle partecipate, per dire, su altri rivoli di spesa che sono molto più complicati o no? Ma insomma, certamente la spesa pubblica in altri paesi è stata toccata, per esempio in Spagna, per esempio nel Regno Unito e quindi non si vede perché da noi non si possa toccare anche quelle categorie che invece rimangono sempre fuori da queste cure. Certamente è più facile toccare la spesa pubblica in un paese che cresce del 3% o del 2% piuttosto che in un paese che sta stagnando o addirittura non crescendo da tanti anni a questa parte. Quindi questa è la difficoltà contro cui ci scontriamo in questo momento. Se però rindiamo ancora una volta non potremo tagliare le tasse e non torneremo mai a crescere, insomma. Questa è un po' la cosa.